È stato trovato con oltre 200 grammi di cocaina e più di 7 mila euro in contanti provento a dispaccio, secondo gli inquirenti per questo è stato arrestato. Si tratta di un cittadino albanese di 28 anni senza precedenti penali fermato durante un'operazione antidroga dagli uomini della squadra mobile della questura di Arezzo diretti da Sergio Leo. Lo scorso giovedì il 28enne si aggirava tra le vie di Arezzo per consegnare in vari punti della città lo stupefacente gli agenti dopo aver accertato una cessione di una dose lo hanno fermato all'altezza di un noto centro commerciale. Hanno perquisito l'auto su cui viaggiava presa a noleggio e lì hanno ritrovato 16 dosi di cocaina pronte per essere vendute assieme a circa 700 euro in contanti. È scattata la perquisizione all'abitazione nella Valdichiana Aretina, qui il 28enne che risulta disoccupato aveva nascosto altri 6.600 euro in contanti in un appezzamento di terreno nel retro dell'abitazione. Gli investigatori hanno ritrovato oltre 80 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, altre 14 contenenti un quantitativo più consistente di stupefacente e 50 grammi di cocaina allo stato grezzo ritrovati anche tra i bilancini elettrici di precisione. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato, provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria che poi ha applicato nei confronti del 28enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.